Come acquistare una cripto valuta senza passare da un exchange, quindi senza il classico Binance, Kraken, Crypto.com Esistono diversi servizi, ma prima di tutto, prima di cominciare, bisogna avere un wallet Un wallet ad esempio non custodia come il classico Metamask, settata sulla diverse blockchain Per stare Metamask, tutte le blockchain, a parte Ethereum, perché Metamask una volta che l'avete scaricato Nasce su rete Ethereum, quindi di base ha già impostato Ethereum come rete Ma se volete impostarlo per tutte queste chain o tantissime altre Potete tranquillamente collegarvi al sito Chainlist Andare a selezionare una delle chain disponibili da questo elenco, ce ne sono veramente tantissime come potete vedere Connettete il vostro wallet e in automatico la imposterà sul vostro Metamask Prima di operare comunque con Metamask vi consiglio di andare sulla playlist corso Cryptovalute e Blockchain Oppure cercarlo direttamente sul mio canale YouTube Andare a vedere tutti i video di Metamask Mi pare che siano circa 3 video dove vi spiego nel dettaglio il suo funzionamento Ma soprattutto come proteggerlo, come backuparlo E come andarlo poi a ripristinare senza perdere i vostri fondi Quindi è veramente fondamentale andare a visionare questi video Vi rilascerò comunque alla fine di questo contenuto Una volta che avete impostato le vostre chain, la vostra chain che volete utilizzare Vi potete collegare su questo protocollo Rubik Exchange Anche per questo protocollo ho fatto un video molto dettagliato Ve lo lascerò linkato nella descrizione di questo video Rubik permette di swap, permette degli earn, permette diverse funzionalità al suo interno Ma quello che ci interessa è l'acquisto di un token, di una nostra criptovaluta Clicchiamo sulle tre righette a fianco al nome di Rubik e andiamo a cliccare su Fiat OnRamp A questo punto si apre questa schermata Cliccando su questi quattro pallini abbiamo la possibilità di andare a leggere domande frequenti Privacy policy, termini d'uso, aiuti e supporto Ma quello che ci interessa è andare a comprare una criptovaluta o un token Qua abbiamo impostato Euro, la nostra valuta Fiat E qua a destra possiamo andare a scegliere le diverse criptovalute, i diversi token Come vedete ce n'è veramente veramente tantissimo E a fianco ai token c'è scritto a quale rete appartengono Supponendo di voler acquistare ad esempio BNB per la Binance Smart Chain Senza utilizzare Binance possiamo cliccare sulla ricerca e mettere BNB Andiamo a selezionare direttamente BEP20 Qua possiamo andare a impostare l'importo C'è un importo minimo ovviamente se volessimo mettere 10€ non ce lo dà disponibile come importo minimo Vedete che qua sotto il minimo è 15,83 Quindi mettiamo 16€ per fare questa prova Qua sotto possiamo andare a scegliere il metodo di pagamento Essendo un protocollo che non ha un exchange interno Si affida a dei processori esterni Cliccando su best rate possiamo andare a vedere che si appoggia a Mercurio, Monpei, Transac E ci dà con la prima scelta il processore più economico, più adatto alla nostra esigenza Quindi lasciamo settato il processore scelto in automatico da Rubik E andiamo a scegliere il metodo di pagamento tra quelli elencati Io lascio carta di credito Clicco su acquista BNB Vedete in questa sezione va a chiedere un indirizzo L'indirizzo di un wallet per spedire i nostri BNB Ci spostiamo su Metamask Dopo averlo settato sulla Binance Mancene Clicchiamo in alto su account Ci spostiamo su Rubik Andiamo ad incollarlo Si clicca su continua Si apre questa schermata dove andiamo a inserire alcuni dati Come ad esempio il nostro indirizzo email Si vanno poi a inserire i dati della carta A completare i task e richiesti E in pochi secondi si andrà ad effettuare il nostro acquisto Tramite email riceveremo gli aggiornamenti per quanto riguarda il nostro acquisto E quando invieranno i nostri BNB Non ci vuole tantissimo tempo Poi dipende anche dalla blockchain se è intasato o meno Ma normalmente tra i 3 e i 10 minuti massimo Arriveranno sul nostro portafoglio Infatti come potete vedere sul mio account Avero 0 BNB E adesso sono arrivati 0.0539 BNB Quindi in pochi minuti ho effettato un acquisto Senza utilizzare il classico exchange E ho inviato direttamente BNB in questo caso Al mio wallet non custodial